Una città di mezzo milione di abitanti ha impatto zero. È questo l'obiettivo ambizioso di Dresda, in Germania, che vuole annullare la sua impronta ambientale entro il 2030, nell'ambito del progetto europeo Matchup Project, che ha selezionato 100 città del continente. Per iniziare il suo percorso verso l'impatto ambientale zero, la città ha scelto come pilota il quartiere di Johannstad, che fu quasi completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e dove ora si sperimenteranno alcune soluzioni innovative nell'ambito del progetto europeo. Robert Franke, che a Dresda si occupa dello sviluppo economico della città, coordina tutte queste iniziative. Abbiamo lanciato un progetto di casa per lo sviluppo del quartiere e implementato progetti in un'area con prevalenza di prefabbricati. Abbiamo migliorato la mobilità, costruito infrastrutture e creato un programma di efficienza energetica in una scuola elementare. In questa scuola primaria, il consumo di energia è sorvegliato tramite un gemello digitale. Si tratta di una replica virtuale dell'edificio reale, che include tutti i parametri necessari a calcolare il dispendio energetico. Abbiamo misurato il risparmio di energia e abbiamo scoperto che in annate particolarmente favorevoli possiamo risparmiare fino al 42% nei momenti di più forte consumo. Altri anni possiamo risparmiare all'incirca il 30%. L'amministrazione di Dresda sta lavorando anche sulla mobilità. Entro la fine dell'anno in città ci saranno 65 mobi points, stazioni di scambio tra la rete pubblica dei trasporti e vari servizi di bike sharing e car sharing. Quest'anno le nostre biciclette pubbliche saranno utilizzate un milione di volte e auto in car sharing 50.000 volte. Fino a 5.000 veicoli privati potranno essere sostituiti grazie al nostro sistema e speriamo di poter fare ancora meglio in futuro. Tutti i veicoli comunali di Dresda dovrebbero essere elettrici entro il 2025. La mobilità elettrica, indicata come priorità dal Green Deal, svolge un ruolo chiave nella decarbonizzazione e nel taglio delle emissioni. Dresda è una delle tre città leader per questo ambizioso progetto europeo. Le altre sono Valencia, in Spagna, e Antalya, in Turchia, che saranno seguite poi da Scopie, in Macedonia e Austin, in Belgio.